Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video relativo al Trono di Spade. Ho realizzato la recensione completa per quanto riguarda l'ottava stagione, parlando anche un po' in generale della serie, visto che è il finale, e come vi avevo promesso sono qua, benvenuti in un nuovo video, per parlare più nello specifico dei personaggi. In quel video ero un po' più generico, qua invece vediamo personaggio per personaggio se ho apprezzato la loro evoluzione. Se volete poi ancora più dettagli vi invito a vedere i commenti che ho fatto puntata per puntata nelle scorse settimane durante la messa in onda della stagione. Aspetto ovviamente il vostro parere nei commenti, come sempre ditemi chi è il vostro personaggio preferito, vi svelerò anche il mio magari più verso la fine, anche se l'ho già detto nello scorso video. Ditemi se vi sono piaciute le evoluzioni dei vari personaggi, se siete delusi, soddisfatti da questa ottava stagione, dall'intera serie, scatenatevi nei commenti. Io andrò a parlare principalmente dei personaggi che hanno comunque un'evoluzione, una conclusione all'interno della sesta, scusate, dell'ottava stagione. Per quanto riguarda il prima, ovviamente non voglio parlarne, perché sennò veramente non finirei mai più. Parlerò molto dei personaggi principali e un po' meno di quelli un po' più secondari. Iniziamo da Cersei Lannister, che secondo me, bene o male, in questa sesta stagione, rimane abbastanza coerente con se stessa, la scena finale con Jaime ha senso, perché lei è comunque arrivata veramente al capolinea, però mi aspettavo qualcosa di più. Mi aspettavo più colpi di scena a lei relativi, più presenza del personaggio. Il solito discorso, mi è piaciuto il punto di arrivo, ma non come il personaggio ci arriva. Poca presenza, ripeto, di questo personaggio, delusione parziale. Però sicuramente è uno dei pochi personaggi che è rimasto coerente con se stesso. E la sua mossa finale, di mettere il suo popolo come sua protezione, è perfettamente in character. E soprattutto il suo attaccamento al trono è proprio un desiderio ormai finale. È praticamente un capriccio, un atto isterico, tipico del personaggio di Cersei, che però agisce anche perché finalmente ha un figlio con Jaime. E questo sicuramente la fa diventare non più responsabile, ma più attenta alla sua vita. Cersei è sempre stata un po' così. Amava sicuramente i figli, probabilmente l'unica cosa che riusciva ad amare, sempre per egoismo, perché non per vero amore, ma per amore verso se stessa. I figli sono una sua creazione e quindi assolutamente non vuole vederli scomparire. L'attaccamento per questo ultimo figlio invece sembra essere un po' più genuino, meno egoista. E lo si vede anche sul finale quando abbraccia Jaime e muore, in quel modo che tutto sommato io ho trovato giusto. Mi ricollego passando subito a Jaime Lannister, uno dei miei personaggi preferiti, che però ha un'ottima evoluzione, parte come uno stronzo, diciamolo, e piano piano ha una rivalsa diventando comunque un vero e proprio eroe, un vero e proprio cavaliere. E il suo amore con Brienne mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto come si è concluso. E per quanto riguarda il finale in cui lui va da Cersei, non mi è piaciuto, nel senso che non l'ho apprezzato perché il personaggio effettivamente cede in quel momento. Però è comunque una spiegazione valida. Lui tutto sommato va là, va da Cersei e diventa il vero eroe, perché sa che andando lì riuscirà a convincerla a fermare quella terribile battaglia. Poi così non è per causa di Daenerys, ma lui comunque ci riesce. Mi dispiace perché è un finale dove il personaggio di Jaime in qualche modo perde tutti i lati positivi che ha ottenuto durante la sua evoluzione nelle varie stagioni e va di nuovo a cedere nella trappola di Cersei. Ma ha senso, ripeto, perché lui comunque non può distaccarsi da quell'amore, da quella strana emozione, io non so neanche come chiamarla, che prova verso la sorella. Sicuramente ama Brienne, ma sa che ha un compito verso Cersei e verso il popolo di Aprodo del Re. Avrei voluto un altro destino per questo personaggio, ma tutto sommato può andare bene così. Assolutamente non apprezzo al 100% questa scelta, ma comunque me la posso far andare bene. Jon Snow, ne abbiamo già parlato con il mio compagno Brian nel video dell'ultima puntata. Jon Snow ha un'evoluzione circolare, se ci pensate. Torna dove ha iniziato. E per quanto riguarda questa sesta stagione non ho assolutamente apprezzato il suo comportamento. Nonostante verso la fine lo giustificano, perché lui comunque uccide Daenerys, non mi sono piaciute le sue reazioni. Daenerys ha esagerato troppo perché Jon Snow non reagisse ancora prima di quando poi effettivamente reagisce. Quindi non mi è piaciuta la sua evoluzione in questa stagione, se non per il finale. Per il finale perché finalmente viene giustificato il comportamento di questo personaggio, che ha dei valori morali talmente saldi da andare contro i propri sentimenti e il proprio amore, come già in passato ha fatto. E questa è una cosa che ho apprezzato e che tutto sommato mi è piaciuta. Non ha avuto sempre un'ottima evoluzione. Fino al momento in cui resuscita, in qualche modo, era un ottimo personaggio. Un personaggio veramente stanco, che non ce la faceva più e che doveva affondare. Però secondo me l'hanno fatto affondare in una maniera un po' troppo fuori dal personaggio. L'amore con Daenerys sinceramente a me non mi è mai piaciuto, non mi è mai andato giù, perché non c'entra molto con il personaggio di Jon Snow, che può sicuramente avere una cotta, ma non per lo status mentale in cui è arrivato dopo la sua risurrezione. Era un personaggio finito, ma finito nel senso che era vuoto. Invece il fatto di ritrovare un amore non l'ho trovato troppo giustificato. Non l'ho trovata come una rinascita del personaggio, ma una cosa che non aveva senso per come era arrivato ad evolversi. Tutto sommato, però ripeto, mi è piaciuto il finale, soprattutto perché lui torna, essendo un reietto della società di Westeros, lui torna dove ha iniziato. Diventa praticamente re dei reietti. Prende i bruti, i corvi della notte, e li porta oltre la barriera a fare la loro vita. Una vita che comunque a lui piace. Abbiamo capito che il Jon Snow re, il Jon Snow che, diciamo, è nelle alte sfere di comando di Westeros, non dà il meglio di sé. E proprio per questo è un'evoluzione che porta il personaggio di Jon Snow indietro. Sicuramente non lo rende onorevole, ma lo rende un personaggio, per fortuna verso la fine, coerente. E che dire della sua amata Daenerys? L'evoluzione di Daenerys a me è sempre piaciuta, non lo metto in dubbio. È un personaggio appositamente odioso, che ha un ideale talmente tanto alto che lo porta avanti con metodi sicuramente non ortodossi e pazzi, assolutamente fuori dalla norma. Ha una visione di pace, di libertà assolutamente distorta. Lei vuole ottenere la pace con la guerra. Dice, il mio fine giustifica i mezzi, possiamo dire. E questo fino alla settima stagione va bene. Ma nella sesta stagione la sua pazzia arriva veramente troppo velocemente e senza una diluizione, senza una spiegazione azzeccata. Veramente comincia a fare pazzie, Jon Snow reagisce male a queste pazzie e il suo sclerare, quando sente le campane, quando vede, diciamo, la torre dove è Cersei, quel momento lì, nella quinta puntata, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché impazzisce troppo repentinamente. C'è uno stacco, non so neanche come spiegarlo, ma c'è un divario enorme tra la Daenerys prima di quel momento e dopo quel momento. Poi non la si vede neanche più, non si vedono più le reazioni del personaggio, assolutamente non mi è piaciuto. Nell'ultimo episodio invece il personaggio mi è piaciuto, l'attrice è stata anche molto brava a rendere l'arrivo, il punto di arrivo di questa pazzia che mi è piaciuto, ma non ho apprezzato il prima. È troppo veloce, troppo repentino e insensato. Bastava qualche dialogo di più, qualche dialogo diverso, un momento più intimo del personaggio come il trono di spade ha sempre saputo fare per giustificare quella pazzia. Invece viene giustificata la fine. Daenerys non ha mai effettivamente specificato e esplicitato questa sua pazzia. Avveniva e basta senza che lei lo dicesse allo spettatore, non è che doveva dircelo direttamente, ce lo potevano far capire in modi diversi. Invece lo dice alla fine, ormai ha fatto conmiuto e questa cosa non mi è piaciuta. Però, in generale, il punto di arrivo del personaggio è giusto. Non si siede sul trono, il suo drago brucia il trono e io l'ho visto, alcuni non sono d'accordo e ci sta. Io penso che invece il drago abbia bruciato il trono perché, invece di bruciare Jon Snow, capisce che non è stato Jon Snow ad uccidere effettivamente Daenerys. Ma è stata la pazzia per, diciamo, la sete di sedersi su quel trono e quindi distrugge proprio il trono di spade. Perché è lui che ha fatto morire, diciamo, sua madre. E proprio per questo, questa scelta l'ho apprezzata. Niente trono, democrazia, ne abbiamo già parlato, comunque mi è piaciuto quel finale. Tutto sommato ho apprezzato anche Bran, il fatto che lo mettono sul trono. Mi aspettavo qualcosa di più, un personaggio diverso. Diciamo che passare da Corvo con tre occhi, un personaggio molto elusivo, che risponde sempre per enigmi, che non vuole avere niente a che fare, che non prende mai un'effettiva posizione, che non vuole avere niente a che fare con il mondo della corte, ecco, vederlo diventare re, mi ha fatto un po' storcere il naso. Però ci sta, è una scelta azzeccata perché, comunque, è l'unico personaggio che forse effettivamente riesce a mantenere un contenio, che riesce effettivamente ad essere un re giusto. Quindi anche l'evoluzione di Bran, tutto sommato, mi è piaciuta. Così come ho apprezzato quella di Sansa. Sansa, anche se in questa stagione poteva avere più spazio, comunque lotta con Daenerys, smuove suo fratello, è l'unica che effettivamente fa un po' di macchinazioni, un po' di sotterfugi, per ottenere il suo scopo. Finalmente la pace a Westeros, e finalmente il Nord indipendente con lei a capo. Per fortuna, cresciuta e evoluta piano piano durante tutta la serie, riesce ad avere e ad ottenere il ruolo di suo padre mantenendo i valori che lui ha insegnato. Quindi Sansa mi è piaciuta come personaggio, assolutamente, probabilmente uno, anche lei una delle più coerenti, assolutamente. E invece la sorella Arya anche mi è piaciuta con alti e bassi. Di nuovo, mi è piaciuto il finale, mi è piaciuto il suo punto di arrivo, il fatto che va a trovare altre terre. Praticamente Cristoforo Colombo mi piace, perché lei è un personaggio che è diventato avventuriero, che delle corti non ne vuole sapere più niente, e quindi ci sta. Ma non ci sta il prima. Lei è diventato un assassino, un'assassina provetta, una spia praticamente, non so come definirla, e invece non ha dei momenti dove questo esce particolarmente, a parte quando uccide il re della notte, però la vediamo troppo debole, troppo emotiva in certi momenti, durante la distruzione di approdo del re. Perché scappa a quel modo? Sembra veramente incapace, invece lei ha delle capacità molto più alte di quella. Piccoli particolari, come dicevo, che questa stagione non cura particolarmente. Però in generale, buono il punto di arrivo, ma non come ci arriva. Dei personaggi principali, più o meno ho detto tutto. Andiamo a vedere un po' quelli un po' più secondari. Come ho detto, mi è piaciuta Brienne, un ottimo personaggio, diciamo, secondario, diventa cavaliere, mi è piaciuto veramente tanto, e mi è piaciuto il finale in cui scrive di Jaime. Comunque ha amato questo personaggio, sa il suo valore, nonostante magari ha dei difetti, e scrive che è morto proteggendo la sua regina, in maniera che di lui rimanga un buon ricordo. E questo mi è piaciuto. Ho apprezzato anche il finale di Clegane, la sua lotta contro la montagna, morti tutte e due, giusto, perché muoiono nel fuoco, dove tutto è nato, e ci sta che muoiono tutte e due, senza un effettivo vincitore. Qualche momento di indecisione su questo personaggio, soprattutto quando vuole ritirarsi dalla battaglia contro gli estranei, perché penso che sia tutto perso, un po' fuori dal personaggio, anche se si può capire, perché lui è sempre stato un po' così. Forse per certi aspetti, in certi momenti, un po' codardo, ma, bene o male, mi è piaciuto. Sam, sì, una buona conclusione, speravo qualcosa di più sul finale, è un personaggio che è diventato molto di più di contorno, ci sta, mi aspettavo qualche momento più emozionante con John, ecco, non l'ho detto, ottimo l'incontro finale con John e il lupo, assolutamente. Tornando a Sam, non mi è piaciuta tanto la sua reazione, dopo la scoperta della morte dei genitori, soprattutto da parte di Daenerys, mi aspettavo qualcosa di più da questo personaggio, sul finale l'hanno reso un po' troppo di ridicolo, ma vabbè, mi va bene che l'abbiano un po' accantonato, c'è di peggio. Mi va bene la conclusione di Jorah, tutto sommato, muore per la sua regina, e ce l'aspettavamo alla fine, lui ha sempre fatto quello, e ci sta che lo faccia, anche sul finale, rende più odiosa, e Daenerys, e questo va bene, odiosa in senso positivo. Non mi è piaciuto il finale di Varys, la sua morte alla fine, non ha avuto secondo me un'effettiva evoluzione, un effetto sulla trama, mi aspettavo che il suo tradire appositamente, avesse più senso, peccato, perché era un personaggio che mi piaceva veramente tanto, Tyrion Greyjoy mi è piaciuto come personaggio, ottimo al suo sacrificio finale, sono assolutamente soddisfatto, non mi è piaciuto l'evoluzione finale di Verme Grigio, diventa veramente fastidioso, è troppo importante, capisco il suo dolore per la perdita di Missandei, ma insomma, non capisco neanche tutto questo attaccamento con Daenerys, alla fine è lei che ha provocato la morte di Missandei, con i suoi comportamenti un po' così sclerati, quindi Verme Grigio verso il finale non mi è piaciuto. Tormund, Melisandre, Beric, Euron Greyjoy, lo stesso, Ser Davos, secondo me anche loro hanno avuto comunque una giusta evoluzione adatta al personaggio, infine però voglio parlarvi di quello che è il mio personaggio preferito, tornando ai personaggi principali, Tyrion, ovviamente, Lannister è effettivamente diventato il mio personaggio preferito con questo finale, ottima evoluzione anche lui, parte come un personaggio egoista, che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di vivere, e diventa un personaggio che invece ha degli ideali e si sacrificerebbe la sua stessa vita per proteggere quegli ideali, quindi assolutamente la sua evoluzione mi è piaciuta tantissimo. Sul finale è un personaggio interpretato benissimo, Peter Dinklage è veramente un attore fenomenale, e lo dimostra veramente alla grande in questa stagione, il personaggio è ben scritto, ben evoluto, è quello che rimane fedele a se stesso, che ha un'ottima evoluzione sul finale, mi è piaciuto che alla fine lo premino, facendolo primo cavaliere, assolutamente sono contento, ed è l'unico che mantiene ancora l'anima di Game of Thrones, fatta di dialoghi, di parole forti e convincenti, è veramente il personaggio che mi ha soddisfatto di più, e che anche emozionalmente mi ha dato di più, quindi assolutamente è il mio personaggio preferito. Questo è un po' il mio parere riguardo a tutti i personaggi del Trono di Spade, se ho qualcosa da dire ancora magari lo approfondirò in eventuali live future, e aspetto assolutamente il vostro parere nei commenti, ditemi, ripeto, quali sono i vostri personaggi preferiti, chi vi è piaciuto, chi non vi è piaciuto nella sua evoluzione finale, noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, alla prossima!